Qual è il modo di lavorare con gli articoli sciamati? Noi dobbiamo andare in profondità o attraverso di loro, dobbiamo cercare di comprenderli con la nostra mente. Quello che c'è scritto qua, Rav dice, noi dobbiamo avere tutte e due le cose, intelletto e sensazione. Dobbiamo cercare di connetterci con questi articoli in tutti i tipi di modi. Gli articoli sciamati non sono veramente articoli, sono una proiezione dell'anima. E mentre più noi li leggiamo, li leggiamo o li vediamo in un modo o nell'altro, attraverso di questo noi costantemente avanziamo, ci avanziamo verso il creatore. Perché Balasulam ha messo in questi l'anima della correzione, il cuore della correzione. Studente, tu hai detto prima che a questo articolo c'è il lavoro individuale della persona? Rav dice, chiaramente sì, qui c'è il lavoro individuale per poter comprendere e sentire, per poter stare incorporato in questo articolo, per poter aderirti a lui. Così che questo è un lavoro individuale di ogni persona. Tuttavia dall'altro lato noi dobbiamo cercare, dopo di questo, di comprendere qual è il nostro lavoro generale di come aiutarci in un l'altro e come e quanto noi possiamo comprendere della nostra realtà è un lavoro che noi dobbiamo portare a termine dentro al nostro desiderio di ricevere e invertirlo.